buonanello in nata, io sento questa sabata, per ogni tipo 4 persone, avemo un hacker molto famoso, speciale, speciale 4, se vede c'è il spectro 15, sac prezze, id 1, ban permanente, ma se vede, scu de fraca mia, mamma mia, omul Meu, scu de, non, bai, non mi ne avuta, bai, non, per l'am stampa, io v entrare 4, bai, non, mi ne avuta,ī fattu comos, si am lincuato una data mie roto cu pamantul mai multa mica aipa mai multa mica mica mamma mie excelent are hackers pen joara te vedeti mamma mie present lui id39 te vedeti are id39 no hallo e per te ma sha mamma mia ban e e e e e e macina buona donna maimusa amica iber un pixel per parte di tratti e la el di poquerie faccio bocherie mamma mia come si vuole come sei lo mio singur se vede si è un colega uno con motor colvo è da come me fa mamma mia come sei lo mio come mamma di tracce percuta che mi da trance della mine ban mare con mamuta hack mamuta aiii uuuu 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 iuuu iuuu excellent donna zara ooo daca primiti daca primiti daca primiti daca primiti daca primiti video si videoclip minunat foarte frumos domnule asta are chest mamma a desparut am nin 7 grad am nin 8 are mamma omul nori prin se spara la high favorul acest baiat fiii distraccia fiii mamma mie baiatul meu dragoste un pic sa faca baiatul meu se vede e e mamma baiatul meu i ducac predice level 1 permanente a i a e a 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 as a no asciò il minino shit alo Sì. Sì. Vabbè, non c'è altro, non c'è l'onore. Poi, faci treba. Voi amassi io, di nina te, raducule. Te vei, sono buoni. Adesso ho iniziato a lavorare. E ho lasciato gestione. Flamanzi. Flamanzi tare. A fost... Flamanzi a fost. Acuma incep si eu. Să mutesc. Băi. Stam mai mic canal. Ilinus. Un abonati. Se numeai Secretul Modano. Si plateteala. Oh. Sili vine ora. Cinci numara asta. Asa. Baca manu. Bara unu parun este barmanu. Si eu. Bara unu. Să fac. Continuare al raportul. Un ing. Raport. 250. Poi. Pai 50. Nu din 400. Am din 400. Mancar 600. Băi. Propecule 600. Merite. Atata pot sa fac. Am din 300. Daca vrei. Socolata. Socolata frata frumosa. Daca vrei. Daca. Băi. Băiatu. Ăsta. Leva. Bă. A intanit. Nicu. Să pune. Să te banezi. Că. Că. Un drog. Aha. Băi. Băiatu. À. Ci banezime. Nei. Ce lumeare. Fraco-dei el. Opa. La sudora! Să vlaie. Băi. Dă. Ai un ca la rasta? no ma duc la piazza sa cumpere euro scumpe scumpe si un cent euro meriemia de 2 cent meriemia de 2 cent 6.000 euro ah ma 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 ah 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 baiatul meu ridicule n-am putut sa zonesc copilul ala eu am stat totu de mine sa zoc pe el cum funcioneaza da ce pule de sangier am un linicu deja aaa bun clipul se incheie nu se incheie goto si fă aa aa tad am un lin aaa mamam m-a da bun aaa am primit 400 milioane 60 milioane purdeciar milioane doua 100 colori 191 de poieinti 144 si gata bani am facut daca vedi sa faci un video like primiti o masina forte tero santrum tip di invernus si probabil 6-10 persoane fiecare 100 milioane si cateva 3 persoane de 5 de puncte premium daca vreti anuntati foarte interesante te vedeti si am mai mic canal in istoria plana de acasa si maimuta mica de genul am vorbit cu maimuta de 3 septembre maimuta mica de intre asemenea tot mereu un pic intr-o pe live-ul meu cand cand tuta un pic ma saluta si a plecat maimuta mica va ai pe apasa like-uri sub calc stai sa vedem stai sa vedem stai sa vedem 3.000 oooo ma mie bun am comparat 50 de puncte primele am primit deci 1.000 de poieinti 30 si special skin 30 skin sau crate cia la in un su lo vedem oita oita questo è KINUPECIAL da KINUPECIAL buon buon che vediamo posso sono ma ma cosa e comorata non scrive se non scrive ci sono ci sono questi questi e qui qui che il la penda la patrulla 5 6 6 6 6 6 8 8 9 10 8 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 13 14 15 15 15 15 16 16 16 16 16